rispetto fondamentale e io ne parlo perché modestamente ho avuto tutti i problemi sessuali che si possono immaginare e è stato veramente un inizio scioccante. Le donne hanno sicuramente tantissimi problemi, ma noi uomini viviamo all'inizio delle esperienze qualcosa di drammatico di cui voi ragazze secondo me non vi rendete conto perché voi dovete accettare o non accettare la corte dei ragazzini, ma per noi è qualcosa di traumatico. Io mi ricordo proprio la paura, il desiderio del primo bacio. Cosa cerca un adolescente? C'è curiosità, c'è il fatto di raggiungere dei traguardi, finalmente ho baciato una ragazza e c'è anche la prova virile e questo crea una grandissima situazione di tensione. Io credo che se vogliamo affrontare la questione del sesso e dell'amore, innanzitutto possiamo renderci conto che la nostra società non è predisposta a creare una situazione tranquilla in cui una persona possa sperimentare rapporti con l'altro sesso sia dal punto di vista emotivo, dell'innamoramento, sia dal punto di vista proprio del contatto fisico. È tutto complotta contro questa possibilità, il nostro modo di vedere il sesso che ci viene buttato addosso dai media, dalle famiglie, dai compagni di scuola, da tutto l'ambiente in cui viviamo. Le ragazze vivono questo incubo di essere confacenti all'estetica dominante, è qualcosa di pazzesco. C'è questo canone della donna sensuale, della donna alla moda, eccetera, eccetera, e le ragazzine si trovano a competere con queste immagini senza rendersi conto che poi quando la modella, l'attrice fanno il servizio fotografico c'è il trucco, il parrucco, le luci, gli effetti, la correzione. Io mi ricordo mia figlia quando era piccola, a un certo punto mi dice papà io ho le cosce grosse, era un chiodo, una serie di fiammiferini messi uno sull'altro, ma lei si vedeva con le cosce grosse. Ma proprio l'idea anche del rapporto d'amore è schizofrenica, al maschio da una parte si dice che deve comportarsi bene se uno poi è religioso a tutta una serie di comandamenti che vanno nella direzione di non fare certe cose prima del matrimonio e contemporaneamente però il gruppo sociale intorno ti dice che se tu non riesci a essere un maschio scatenato e accoppiarti con una quantità strepizzosa di fanciulle sei un incapace. Ed ecco qui vengono fuori i problemi sessuali, problemi amorosi anche, ci sono molte persone che non riescono neanche ad innamorarsi quanto sono così in difficoltà psicologica. Ma stasera io vorrei descrivere quello che è successo a me quando ho finalmente, dopo difficoltà incredibili, riesco a trovare una fanciulla disponibile a avere un rapporto intimo con me, stavo andando fuori di testa perché ormai avevo 17 anni e non ero mai riuscito ad arrivare a nulla e finalmente questa ragazza decide di sverginarmi. Io devo ringraziare la rivoluzione comunista perché c'è chi dice che è fallita, ma per me è andata benissimo perché se non c'era la rivoluzione comunista col cavolo questa compagna sarebbe presa da pietà nei miei confronti. Era tra l'altro una ragazza con più anni di me che a un certo punto si è resa conto che stavo per esplodere e dice vieni qua che ti insegno la vita. Praticamente io ero, immaginate, al settimo cielo tra le braccia di questa fanciulla, non mi era mai successo, eravamo addirittura nudi su un letto, una cosa strepitosa e inizio finalmente questa penetrazione e dentro di me grido sì finalmente sto facendo l'amore, sì e finito. È stata una scena tragica. Dopodiché che cosa succede? Succede che tu hai questo incubo, hai l'incubo di non riuscire a reggere più di pochi secondi e non c'è nessuno che ti spiega niente tra l'altro. Attenzione, i metodi che vengono offerti, se sei fortunato e arrivi a certe informazioni, ma devi essere molto fortunato, sono dei metodi terribili. Terribili. Nel 1972 a Milano l'unico posto dove io potessi andare a chiedere qualche consiglio era agli amici del bar, c'era qualcuno più grande di me e allora mi armai di grande coraggio, vado a questi miei amici e gli dico ragazzi io c'ho questo problema. Ovviamente battute sui conili, cose e a un certo punto però un ragazzo gentilmente mi dice guarda, è una cosa che succede, però io ho trovato il sistema, adesso te lo spiego. Quando tu inizi a fare l'amore, inizi a fare nella tua testa 7 per 3, 21 più 12 più 14 più 32 meno 28 diviso 4 e questo sforzo aritmetico ti rallenta. Io riesco poi a trovare un'altra fanciura disponibile, ma inizio a fare l'amore, 7 per 3, 21, finito. Che poi ho avuto dei gravi problemi con la matematica, perché a scuola mi interrogavo in matematica, io tornavo a questa scena tragica e in alternativa c'era la formazione della squadra di calcio del cuore, per cui tu iniziavi a fare l'amore, iniziavi a elencare tutti i calciatori delle varie annate, però io ero impossibilitato di usare questo sistema perché io non capivo niente di calcio, per cui non sapevo le formazioni di nessuna squadra e quindi ero escluso. Allora, che cos'è che ci propone l'esperienza umana, la cultura umana per contrastare lei a curazione precoce. Mio padre mi aveva detto vai a vedere sui libri che troverai le soluzioni dei problemi e io inizio a cercare un libro che mi dicesse qualche cosa di come si fa l'amore, ma non nel senso delle posizioni o delle cose tecniche, quelle pensavo di averle capite, non era assolutamente vero, ma avevo questa convinzione di sapere grossomodo l'anatomia maschile e femminile. Su questo nel corso che sarà disponibile questa notte ne parlerò in maniera lunga e esaustiva. Adesso andiamo proprio sul riassunto. Che cosa trovo sui libri? Trovo sui libri un testo cinese, il Tao dell'amore, la descrizione della possibilità di rallentare l'eiaculazione con una serie di contrazioni. Cioè io mi devo contrarre il muscolo pubococigeo, che è il muscolo che va dal coccige, dall'osso sacro fino al pube, è quello che usiamo quando facendolo pipì blocchiamo il flusso delle urine e tramite queste contrazioni ritmiche del pubococigeo si arriva a che cosa? A rallentare e anche a riuscire a bloccare l'eiaculazione, ma proprio bloccarla meccanicamente. Io faccio questa cosa e mi becco una cistite spaventosa, perché nel libro cinese non era spiegato che se usi questo metodo qua, poi devi avere dei massaggiatori, quattro che ti massaggiano per otto ore al giorno, perché se no queste contrazioni poi ti vanno a infiammare tutta la zona, se tu contrai, 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 il sangue non circola e tu ti becchi la cistite. Qual è il metodo più diffuso oggi nella sessologia moderna, nella sessologia scientifica? In realtà è una riedizione di questo sistema cinese presentato senza il misticismo taoista, ma sostanzialmente ci sono due sistemi, uno è esterno, fa abbastanza specie perché questi manuali di istruzione consigliano l'eiaculatore precoce di mettersi d'accordo con il partner, la partner e quando senti che l'eccitazione sale, cosa devi fare? Devi uscire e la persona che ami ti deve schiacciare violentemente la punta del pene, cioè il glande e questa strizzata rallenta, rallenta e ci credo bene perché è una cosa traumatica, non proprio dolorosa ma neanche piacevole come cosa, che tu sei lì al massimo dell'eccitazione, devi controllarti, fare marcia indietro e farti strizzare il glande, è una roba allucinante. Però poi quando si prosegue il sistema numero due è quello di contrarsi, anche questa volta abbiamo in realtà una riedizione del meccanismo cinese e anche lì c'è il pericolo di andare a schifio, di beccarsi una cistite. Se qualcuno di voi ha una cistite sappiate che è disponibile in rete la mia autobiografia cistitica che si intitola Le mie cistiti, è stato un dramma che è durato quasi un decennio e perché era una cistite cronica che poi non potevo più fare nulla, sessualmente perché se arrivavo all'eiacurazione urlavo di dolore, per cui non era una cosa… so che state pensando che ne sono successe di tutte. Sì ma la mia esperienza nasce dalla estrema difficoltà di riuscire a avere una vita sessuale normale, per questo che ho dovuto imparare tante cose perché sennò non ne uscivo. Siccome poi il medico mi aveva detto proprio lei con le ragazze non ci vada neanche al cinema perché sennò si eccita e poi si sente male e siccome era comunque doloroso concludere un rapporto sessuale e comunque sapevo che se ci provavo avevo un'eiacurazione immediata, oltre al fatto che, tra parentesi a quel punto lì ero talmente incasinato che mi viene anche il problema dell'erezione, perché poi una ciliegia tira l'altra per cui avevo il problema o di essere troppo veloce quando affrontavo il dolore del rapporto, oppure di non riuscirci anche perché probabilmente una parte di me temeva il dolore che avrei sperimentato al posto dell'orgasmo. Io sono riuscito a tentoni, ci è che il mio scopo è di proporre appunto qualche consiglio che possa aiutare qualcun'altro magari a velocizzare i meccanismi. Perché? Perché la prima grande rivoluzione del mio modo di fare l'amore che mi ha portato a vedere che potevo migliorare, che potevo imparare delle cose, venne fuori grazie a una ragazza che aveva una storia d'amore impetuosa e a un certo punto questa ragazza si rende conto che io non sono in grado di fare centro nelle zone veramente sensibili della fanciulla. Non sapevo bene dove fosse la clitoride, insomma, per cui lei mi fa una cosa che mi tra l'altro generò uno shock e anche un'eccitazione pazzesca, cioè mi fa una lezione, una vera e propria lezione cattedratica, ovviamente eravamo nudi sul letto su come è il sesso della donna, quali sono le parti sensibili, come lei gradiva di essere accarezzata, baciata eccetera eccetera. Una cosa fantastica, perché? Perché finalmente io ero in grado di far raggiungere a una donna l'orgasmo. Una cosa strepitosa, avevo a quel punto un livello di informazione sull'anatomia femminile che non era assolutamente diffusa a quel tempo, neanche oggi, ma comunque a quel tempo eravamo proprio in 5 in Italia a sapere come funzionassero certe cose. Quindi io riuscì in questa maniera qua a capire che ero in grado di dar piacere a una fanciulla al di là del pene e della penetrazione, perché questa è una cosa un po' assurda della nostra concezione del sesso, la cosa importante è il coito, il resto, il coito è l'esame, è quello che tu devi fare, è necessario se c'è veramente l'amore, se c'è veramente l'intesa, che tutti e due raggiungano l'orgasmo durante la penetrazione, possibilmente contemporaneamente, che è una roba, riuscire a mettersi in orario proprio nel treno orgasmico è molto complicato. Pensate che addirittura nella generazione di mio padre era molto diffusa, anche tra persone colte come mio padre e mia madre, l'idea che la donna potesse restare incinta soltanto se c'era l'orgasmo contemporaneo. Infatti sono nato io, prova che questo non è vero, e devo ringraziare questa credenza molto diffusa a quei tempi, perché se no probabilmente non sarei nato. Il fatto di scoprire che io ero in grado di dare piacere, anche se avevo tutta una serie di problemi di funzionamento, mi diede la prima calmata. Smisi di fare le contrazioni e smisi di fare la penetrazione perché mi metteva troppo in tensione psicologica e poi avevo dei disfunzionamenti fisici e facevamo altre cose. Questo mi diede una prima calmata. La seconda questione fu di rivedere la mia scala di priorità. Questo è anche un discorso che secondo me bisognerebbe fare nelle scuole, oltre che bisognerebbe fare l'educazione sessuale, ma proprio l'educazione ai sentimenti. Che cosa cerchi in una donna? Perché soprattutto tra i ragazzini, ma ahimè anche tra gli uomini adulti e anche a gente che è più che adulta, hanno un modo di pensare alla relazione che non ha come obiettivo costruire un rapporto di amore, godersi il rapporto d'amore. Già l'idea dell'amore, l'amore è una roba pericolosa perché quando sei innamorato sei pazzo per cui è meglio che riprendi il controllo, invece di buttarsi nelle storie d'amore, invece di cercare l'estasi dei sentimenti e del sesso insieme ai sentimenti con una persona che tu ami, che tu stimi, eccetera, eccetera, c'è un'idea che è meglio volersi bene, ma la cotta è una roba che non va bene. Non solo c'è questo, ma c'è un'idea diffusissima di competizione con la partner. Io sto con una persona non per sostenerla perché mi interessa, perché mi interessa parlare, discutere, fare delle esperienze insieme perché insieme le cose sono più interessanti e più piene. C'è un'idea di gara. Sia il maschio che la femmina vogliono cambiare quella persona. Allora tu mi ami veramente se sei disposto o disposta a diventare come voglio io. Oppure continuamente io cerco di dimostrare che sono più bravo di te. Oppure non mi interessi tu in realtà, perché quello che mi interessa è avere una serie di rapporti diffusi con il maggior numero possibile di persone, perché più io faccio sesso con persone diverse, più mi sento sicuro, più mi sento vincente. E anche sono meno minacciato dal fatto di avere una relazione veramente importante. Perché? Perché se io ho una relazione veramente importante e se questa relazione poi finisce sto male. Quindi c'è tutto un meccanismo che porta molte persone a non cercare proprio la relazione importante. E che cosa c'entra questo con l'eiaculazione precoce? C'entra tantissimo come c'entra in problemi di riuscire a raggiungere l'orgasmo, come c'entra nei problemi di erezione. Perché? Questo è un discorso molto importante. Il nostro modo di comportarci deriva dal nostro modo di potremmo dire organizzare le nostre emozioni, del nostro modo di vedere quello che succede. Noi interpretiamo continuamente la realtà. Allora, se a te interessa veramente la relazione con una persona, tu cercherai una persona che essendo veramente, come posso dire, in armonia con te, vedrà come aspetto più importante di te, non la durata, il livello di tostaggine, il livello di perfezione della coscia, eccetera, eccetera. No, vedrà te. La relazione è qualche cosa che ha, nel momento in cui si manifesta, nel momento in cui tu hai la fortuna veramente di incontrare una persona con cui entri in relazione, interessi tu globalmente, non soltanto quella singola cosa che fai. E allora c'è disponibilità, c'è disponibilità a ascoltare, c'è disponibilità ad accogliere, c'è disponibilità anche a vedere la questione essenziale, cioè stiamo bene assieme, ok, tu in questo momento c'è un problema di velocità copulatoria o di erezione, ma chi se ne frega, quello che mi interessa è la relazione con te, stiamo bene perché troviamo altri modi per darci piacere e questo, quando uno si rende conto che c'è questo stato d'animo nell'altra persona, che l'altra persona non è lì per misurarti, per misurarti le forme, per misurarti la misura del naso, la perfezione della bocca o la perfezione della tua performance sessuale, a quel punto lì cala la tensione. Allora io calo la tensione, primo punto, verificare e ovviamente qui serve qualcuno che te lo spieghi, meglio se te lo spiega il tuo partner, cosa sono le cose che gli piacciono di più. Attenzione, io in questo corso che sto presentando parlerò anche proprio di una serie di dettagli tecnici, ma sono tutte informazioni, sono tutte suggerimenti che non hanno senso in generale, perché ogni donna, ogni uomo è completamente diverso, quindi è possibile tracciare una mappa di possibilità, ma non è possibile tirar fuori un metodo che valga per tutti e c'è questa cosa meravigliosa che se tu parli con la persona che ami e tu le spieghi che cosa desideri e lei ti spiega che cosa desideri, che cosa desidera, che cosa desideri è un'altra cosa, viene fuori il massimo di intimità, il massimo di connessione e più c'è questa intimità, più c'è la soddisfazione di stare assieme, la gioia dell'incontro, la gioia dell'abbraccio, delle coccole, delle carezze e del piacere sessuale e più io sono tranquillo, è meno importante la velocità. Secondo punto, se la relazione è al centro dei miei obiettivi, non è sviluppare la mia fama di Latin lover, per cui non mi interessa poi che cosa succede, mi interessa riuscire a fare bella figura con il numero più alto possibile di donne ed è importante che nessuno possa dire che a me non mi ha funzionato una volta perché se no perdo la mia aurea di grande conquistatore sessuale. Per cui questo è il secondo punto. Il terzo punto è fisico, è un argomento molto importante, uno dei modi che noi abbiamo per rilassarci, per spegnere il cervello e la respirazione. Scusate che bevo. Noi, come dice il grande osteopata Massimo Valente di Bari, la respirazione è fondamentale. Noi possiamo vivere settimane senza mangiare, giorni senza bere, soltanto pochi minuti senza respirare. La mia respirazione è un meccanismo straordinario per regolare il mio stato di coscienza. Questa è stata per me una scoperta straordinaria. Nel momento in cui iniziavo a far l'amore anche se avevo scoperto come dare piacere alle fanciulle senza la penetrazione, anche se avevo ristrutturato la mia scala di valori rispetto all'importanza delle performance sessuali piuttosto che l'importanza della relazione umana, della relazione amorosa. Mi restava però il fatto che non riuscivo a fermare la testa. Nel momento in cui realmente ero lì e iniziavo questo tripudio, che poi a 17-18 anni non è che mi succedesse tutti i giorni, perché era difficile trovare una fanciulla con cui avere una relazione minimamente stabile. Insomma, casini. Poi figuratevi, erano gli anni della rivoluzione sessuale, della coppia aperta, perché era un bordello veramente incredibile. Ma comunque mi partiva la testa, non riuscivo. Avevo capito, c'era questo mio amico napoletano, che era più vecchio di me, che mi disse la famosa frase, scusatemi, la volgarità, u cazzo non vuoi pensieri. La mia pronuncia è pessima, chiedo scusa ai partenopei. Ed è una grande verità. Se tu, mentre fai l'amore, stai pensando, ma stai pensando a qualunque cosa. Stai pensando, oh Dio mio, devo resistere perché sennò faccio una figura di merda. Oppure stai pensando, sono qua, ce l'ho fatta, adesso voglio fare la posizione 14 del Kama Sutra e poi faccio questo e poi faccio quell'altro. Oppure, vai, guarda come sono qua, guarda che donna fantastica, sì sono io che riesco a possedere questa fanciulla, sì sono un grande maschio conquistatore. Comunque io sto pensando, non mi sto occupando, non sto ascoltando le sensazioni. Allora, una cosa fondamentale per me è stata scoprire che semplicemente se io ascolto le sensazioni non posso pensare. È una meraviglia dell'universo. Una delle dimostrazioni che l'universo ti ama è che hai, tutti abbiamo questo meccanismo. Puoi sperimentarlo adesso mentre mi stai ascoltando. Se tu provi a passarti la mano sul maglione e ascoltare la sensazione fisica della mano sul maglione, tu non riesci a ascoltare la sensazione e pensare contemporaneamente. Questa è una cosa geniale e io posso aumentare questa capacità con una tecnica semplicissima. Bisogna stare attenti se uno inizia a fare yoga, qigong, kung fu, altre tecniche. Ti insegnano tutta una serie di sistemi di respirazione. Ma la respirazione naturale è una cosa molto, molto semplice. semplicemente noi riempiamo i polmoni, inspiriamo col naso, riempiamo i polmoni e mentre i polmoni si riempiono, si va in avanti, si allarga la cassa toracica nella parte alta, nella parte e mezzo. E c'è questo fatto anche che c'è il diaframma che è una specie di pelle, di diaframma che è alla base dei polmoni che va verso il basso, quindi spinge verso il basso tutti gli organi interni. Qui c'è un movimento che riguarda il fegato, il cuore, addirittura si sposta, i reni, la vescica, eccetera, eccetera. E questo movimento c'è un'espansione. Poi quando io ho finito di inspirare, non ho bisogno di spingere fuori l'aria, semplicemente se io mi rilasso l'aria esce spontaneamente. E questo movimento è importante perché parte da qua la respirazione e si estende verso l'alto e verso il basso. Noi respiriamo anche muovendo in parte a pompa anche i muscoli del collo. C'è una microscopica collaborazione. Questo è il modo di respirare normale. Un modo di respirare che è molto utile nei momenti di stress è semplicemente quello di tenere più lungo del naturale, del normale, la fase di inspirazione e la fase di espirazione. Cioè si tratta di inspirare mettendoci, impiegandoci cinque secondi e espirare impiegandoci cinque secondi. Una cosa semplicissima, semplicemente rallentare il respiro. Se avete voglia di fare questo esercizio, io conto. Iniziate a inspirare. Grosso modo abbiamo fatto un'ispirazione di cinque secondi e un'espirazione di cinque secondi. Se tu lo fai qualche volta, quattro, cinque volte, ottieni due risultati. Uno, ci dicono i cardiologi, che su questo c'è molta sperimentazione, questo fa bene perché migliora la coerenza cardiaca, cioè la pausa tra un battito cardiaco e quello successivo diventa simile, omogenea. E questo dà uno stato di benessere, ti regola anche le onde cerebrali, le parti del cervello che utilizzi. Insomma adesso non entriamo nel dettaglio, ma ha un effetto benefico. Ma ha anche un altro effetto, cioè col fatto che ti si chiede di ascoltare la respirazione, cioè che mentre devi ascoltare, direi ispiro e poi espiro, che cosa faccio? Io porto l'attenzione alla sensazione del respiro e se io utilizzo questa attenzione, unendola all'attenzione per le sensazioni fisiche che sto vivendo con questa persona, entro in uno stato di coscienza nel quale aumenta la mia capacità di ascoltare le sensazioni. E questo è straordinario perché mi rilassa mentalmente, mi rilassa psicologicamente perché c'è un rapporto tra respirazione e stato emotivo, stato psicologico e sensazioni. E quindi tutto si tranquillizza, tutto diventa più morbido. E che cosa imparo? Imparo in questa maniera che se durante il rapporto sessuale io sposto l'attenzione dalle preoccupazioni, dai pensieri all'ascolto delle sensazioni fisiche e mi esercito per qualche secondo, per un minuto a seguire questa respirazione che è calmante, rallento, rallento, diminuiscono i problemi di erezione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono una serie di altre tecniche, ma stasera mi limito a un'illustrazione a volo Duccello. Vi anticipo che una delle grandi soluzioni per combattere l'impotenza è, qualora non sia un'impotenza organica, cioè non c'è nessuna causa fisiologica, la tecnica molto interessante e molto efficace è la famosa penetrazione morbida. Adesso non mi dilungo sulla penetrazione morbida, spero di avervi fatto fare un salto e vi lascio questa riflessione. Perché se uno sente dire penetrazione morbida, la prima cosa che ti viene in testa è questo è un pazzo, lo sanno anche i sanpietrini, che non è possibile la penetrazione se il membro virile non è tosto come uno scalpello? Come vedremo, non è così. È assolutamente possibile la penetrazione morbida e quello che si può fare, anche se uno non ha problemi di erezione, ma proprio come esperienza, come modo diverso di fare l'amore, c'è questa possibilità, un'esplorazione nel mondo delle sensazioni del sesso in stato di relax, un lusso sibaritico. Sono talmente sicuro della mia virilità che non me ne frega e niente. Io posso anche fare l'amore senza erezione. Poi, dopo ovviamente si spera che succedano delle cose. Adesso mi viene il sospetto che qualcuno stia pensando che io propongo di smettere di far l'amore in maniera irruente, senza non pensare a niente, che voglia codificare la respirazione, la penetrazione morbida. devi fare così, devi fare così. No, 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 assolutamente, assolutamente, assolutamente. Semplicemente io credo che qualche volta nella vita, 4-5 volte nella vita, sia utilissimo fare degli esperimenti che ci permettono di vedere che le cose possono essere fatte in un modo e possono essere fatte in un altro modo. Poi, anche quando fai la sveltina selvaggia nel bagno del treno, con l'ansia che arrivi il controllore e sfondi la porta, comunque, siccome hai sperimentato il tuo stato di ascolto, hai sperimentato il tuo stato di relax, hai sperimentato il tuo stato non soltanto di turgidità erettiva, erezionale, vabbè, ci siamo capiti, ma hai anche sperimentato un'altra cosa. E questo ti dà un colore in più per dipingere la tela del tuo rapporto amoroso. Il discorso è proprio questo. C'è un altro modo di fare l'amore, c'è un altro modo di concepire il perché, la motivazione del fatto di incontrarsi con altre persone, di entrare in intimità con altre persone. Se ci pensi, già soltanto a dirlo, no? Dio mio, devo entrare in intimità, con degli sconosciuti, no? C'era una battuta sul fatto che papà e mamma ti amano tanto, ma poi ti mandano a fare sesso con degli sconosciuti. che è la nostra situazione, ogni volta che noi troviamo una persona che ci interessa, ogni volta che sentiamo queste tempeste ormonali, perché scatta la magia, scatta l'attrazione, scatta qualche cosa che non siamo neanche in grado di descrivere, che cosa scatta veramente. Abbiamo anche veramente una paura boia, perché se hai una certa età, qualche delusione probabilmente l'hai sperimentata e quindi hai paura che di ritrovarti in una serie di drammi, eccetera, eccetera, è reale. Ma la vita è così, la vita è pericolosissima, è impossibile da classificare, è un mistero, è una situazione in cui niente è sicuro e noi abbiamo soltanto due possibilità, o buttarci in questo gioco e cercare di tirar fuori dall'esperienza della vita le cose più belle, più interessanti, più emozionanti, almeno quando la nostra vita finirà potremmo dire abbiamo vissuto, ce le ho provate tutte per riuscire a arrivare a sperimentare questi momenti straordinari e di unione con un altro essere umano. E qui io vorrei dire un'altra cosa. Nella nostra cultura non c'è questa concezione dell'incontro con un altro essere umano come stato di estasi, non soltanto che sto bene con te, che ti amo. Io quando sono con te sperimento una dimensione della mia vita che dà valore, che dà un senso al fatto che solo su questo pianeta dovrò sicuramente qualche volta avere un po' di mal di pancia, speriamo solo un po'. C'è una magia, c'è tutta una magia che viene negata. Quando noi siamo innamorati, attenzione, vediamo il mondo in un'altra maniera. Quando noi siamo innamorati crediamo veramente di prendere parte a un miracolo di coincidenze, di casi strani, di sequenze di fatti, di parole che ci stupiscono, che sembrano incredibili. Ci viene da dire sto sperimentando qualcosa di veramente sensazionale, veramente l'universo adesso ha un senso, ha un senso perché mi ha fatto sperimentare questo stato di esaltazione, l'estasi nell'amore. Ma quando poi iniziano i problemi, quando poi ti sei beccato la delusione, che cosa tendi a fare molto spesso, tendi a dimenticarti questo, anzi non lo vuoi ricordare perché poi c'è stata la delusione. Però invece io credo che anche se poi una storia d'amore non ha uno sviluppo perfetto, per me la perfezione è riuscire a trovare una persona con la quale invecchiare e con la quale continuare a crescere entrambi, cresce il rapporto. Ho letto questa poesia meravigliosa di questo poeta portoghese che ha preso il premio Nobel, ora io ho un problema di anomia, non mi ricordo come si chiama, ma comunque questo poeta scrive a più di 80 anni e scrive una poesia per la donna che ama, per la sua compagna che anche lei ha più di 80 anni e dice grosso modo non è che io non vedo le tue rughe, non è che io non vedo che non sei più slanciata e tonica come eri a vent'anni, ma io ti amo follemente, per me tu sei qualcosa di meraviglioso, di straordinario, di travolgente. Ecco, l'idea che viene venduta sull'amore e sul sesso nella nostra società è questa? No. E io credo che qui stia in realtà la madre di tutti i problemi sessuali, perché noi innanzitutto vediamo separato il sesso dall'amore e il sesso è una funzione ludica dell'amore, non si dice che l'amore unito al sesso fa sì che l'orgasmo diventi un'esperienza che potremmo definire mistica, un'esperienza di trascendenza del nostro stato abitudinario su questo pianeta. sperimentiamo qualcosa di esplosivo, di grandioso, che andrebbe celebrato, andrebbe rispettato in maniera sacrale. Io non mi piace condannare le varie abitudini sessuali, ma le rappresentazioni che io vedo della sessualità nei film, non parliamo poi della pornografia, non hanno questo elemento. Non c'è un elemento di gioia, allegria, ridere, scherzare. La maggioranza del sesso è o tecnico o esibizionistico, in quattro attaccati al lampadario, in cinque buttandosi giù dall'aereo, eccetera. Oppure è una roba romantica in cui non c'è il corpo, c'è la negazione del corpo. Non c'è un racconto del sesso connesso col ridere. Le popolazioni matriarcali antiche consideravano che il ridere a crepapelle e l'orgasmo sessuale fossero i due momenti nei quali c'era la comunità con la Dea Madre. Ecco, io credo che si avrebbe grande vantaggio su tutta la propria vita di relazione, la propria vita sessuale, la propria vita amorosa, se invece noi dedicassimo un po' di attenzione a ricordare i momenti strepitosi della nostra esperienza amorosa e sessuale e a cercare quella qualità che sicuramente hai sperimentato in certi momenti, ma non hai messo al centro della tua ricerca nella tua vita. Ecco, invece è quella qualità che cambia il punto di vista su tutti i problemi sessuali e ti dà una qualità in più sulla sessualità. A questo punto io ho fatto questa carrellata, mi piacerebbe che voi mi faceste delle domande, se c'è qualcosa che vi sembra non chiaro o che volete approfondire. Intanto vi dico che abbiamo anche un sondaggio, adesso Bernardo farà partire la domanda, quattro domande semplicissime, la prima è sei maschi e femmine, che non vuol dire identità sessuale di genere, semplicemente era curioso sapere quanti maschi e quanti femmine, perché la mia sensazione è che a queste mie conferenze che sto facendo da tempo su questi temi e altri partecipano a una quantità altissima di donne rispetto a quello degli uomini. E poi ci sarà una seconda domanda che fra poco verrà pubblicata invece sulla tua soddisfazione. Mi piacerebbe sapere se le persone che seguono queste conferenze le seguono perché sono già molto soddisfatte delle proprie esperienze sessuali e vogliono semplicemente migliorare, oppure se c'è una percentuale di persone che invece non è per nulla soddisfatta. Vi ricordo che a partire da questa sera è possibile iscriversi a questo corso sullo zen, l'amore e il sesso e è un corso di oltre 20 video, alcuni video verranno aggiunti poi via via. Faremo anche tre dirette di modo che sia possibile dialogare, secondo me è molto importante questo fatto di poter rispondere a delle domande e anche aprire dei dibattiti. Una delle cose che mi piace dei corsi che ho fatto in questi 40 anni è proprio che ho imparato tantissimo grazie alle domande, alle contestazioni, alle osservazioni che sono arrivate dalle persone che hanno frequentato questi corsi. Ci saranno anche alcune interviste che ho fatto a Leslie Leonelli che è la sessuologa che ha indicato per prima l'esistenza del punto L maschile, l'altro punto orgasmico alla radice del pene, che ha anche descritto questo estasi di coccole, chiamandolo orgasmo di valle, un argomento che tratto lungamente nel corso, sostanzialmente si tratta di una situazione di beatitudine non col picco di piacere, ma è interessante perché in questi anni la sua idea è stata dimostrata da una serie di ricerche sull'esistenza proprio di una serie di reazioni fisiologiche che derivano da una situazione così di affetto, di abbraccio, di coccole. Appunto lei pubblicò questo grandioso libro che poi noi ristampamo Coccole e Carezze negli anni Ottanta. La prima volta che l'ho sentita io ho detto questa è completamente pazza, poi mi sono reso conto che mi stava dando una lezione di vita oltre che sulla sessualità grandiosa. Allora dicevo questo corso udite udite costa 97 euro, ma chi si iscrive nei prossimi giorni, entro i tre giorni ne pagherà solo 67 e te che sei qua a questa diretta hai questo premio pazzesco che invece puoi pagare lo stesso corso 37 euro. Abbiamo proprio fatto una dimostrazione di affetto per quelli che frequentano questa pagina per cui sono arrivati a questa prima presentazione. sto facendo marketing duro, ma io credo realmente che sarebbe utile diffondere di più la cultura del sesso per questo ho fatto questo corso e per questo lo voglio promuovere a coltello. Benissimo, Bernardo ci sono delle domande? Ciao a tutti, ti do un numero, siamo altre 700 persone in diretta perché tu non lo sai. Grazie, fantastico. I risultati del primo sondaggio, rimetto in linea, sono il 72% con 202 voti, sono secondo te? Donne. Esatto, e il 28% sono uomini. Allora suppongo che diciamo che molti uomini essendo pigri non avranno risposto al sondaggio, però mi sembra che aritmicamente è confermato il nostro sospetto, cioè le femmine sono molto più interessate a sviluppare ascolto, conoscenza, dibattito, scambio di idee su questi argomenti. Tra l'altro vorrei dire che le varie conferenze che ho fatto in questo periodo, negli ultimi due mercoledì, non ieri, ma le settimane scorse ne ho fatti due sulla sessualità, ho beccato tantissimi insulti da parte di maschi, pochissimi da parte di femmine. Il livello di insulto per me è molto indicativo. Va bene, mi dici che c'è una domanda. Intanto facciamo partire il secondo, la seconda domanda del sondaggio, se mi mandi delle domande... Questa chiede, la ragazza chiede se il corso è anche per single. Allora, se la tua scelta è di restare single proprio di principio, a me non mi dovete rompere le scatole, non voglio né maschi né femmine né transgender né transessuali, non voglio niente, voglio stare di per me, può essere interessante questo corso a livello culturale, così di sapere che altre persone sul pianeta si dedicano a praticare delle attività sentimentali e ludico-amatorie. La speranza è che io ti possa fornire alcune informazioni e altre verranno fuori proprio nei dibattiti che faremo in diretta, di modo che tu possa, come posso dire, precisare il tuo desiderio e muoverti maggiormente verso il fatto di incontrare una persona che ti corrisponda. Attenzione, io sono diametralmente contrario al discorso, il pensiero positivo ti fa ottenere tutto. Quelli che dicono se vuoi, puoi, secondo me bisognerebbe fare un articolo del codice penale con delle pene proprio detentive. Perché? Perché come fai a dire una roba così? Sul pianeta Terra c'è un miliardo di donne che si alzano all'alba e lavorano fino al tramonto disperatamente per cercare di dare da mangiare le medicine ai propri figli e non ci riescono e queste non vogliono? Oppure non vogliono in una maniera corretta del tuo corso? Se fossero onesti questi motivatori direbbero se vuoi e hai un culo mostruoso, puoi e allora possiamo essere d'accordo. Però d'altra parte una cosa indiscutibile è che il pensiero negativo funziona. Se tu dici io non troverò mai nessuno che mi ami, io non troverò mai nessuno che mi ami, c'è che tu potresti anche avere la capacità di non trovare nessuno che ti ama. Che poi non è semplicissimo ma può succedere. Va bene, questa è la mia risposta per cui è anche per single. Fulvia Falconi, mi hai tolto Fulvia Falconi, Fabio Valkingentermun. Senti, te non ti chiami così, lo fai per prendermi in giro così che io faccio la figura che non riesco a leggere il tuo cognome. Valkingentermun. Tullio, Fabio Tullio. Come è strutturato il corso? Le date? È online? Allora, il corso è online. Aggiungeremo via via altri contenuti, vi avviseremo tramite una mail di quando saranno le dirette, puoi fare delle domande prima negli spazi dei commenti, c'è anche una pagina Facebook dedicata agli iscritti a questo corso in cui sarà possibile fare delle domande e io risponderò anche e te lo puoi guardare sostanzialmente quando vuoi. Le dirette se vuoi fare delle domande in diretta o fare delle affermazioni, delle allocuzioni, delle dichiarazioni in diretta, sei liberissimo però devi essere lì durante la diretta, se no ti vedi la registrazione quando vuoi con tuo comodo. Volevo darti le risposte ma vai scusa. Già hai fatto le risposte al secondo sondaggio? Ci siamo, ci siamo. Allora, dillo, dillo, dillo. Allora, allora, tanto rispondo alle domande le dovreste vedere in sovrimpressione, se non vedete la domanda rispondete pure nei commenti così le metto in evidenza. Comunque, bando alle ciance. Allora, abbiamo un 44% con 117 voti che secondo te è? Che sono soddisfatti del loro modo di far l'amore. Abbastanza, abbastanza, abbastanza. Io pensavo che invece fossero più quelli che già stavano bene, che erano interessati a migliorare spazialmente. Va bene, le altre tre domande? Poi abbiamo poco, abbiamo 44% abbastanza, 25% poco, molto il 20% e il 12% 32 voti per niente. Ok, allora, speriamo di riuscire a migliorare lo stato medio di tutto il gruppo e vediamo, vi piacerebbe molto alla fine, faremo un altro sondaggio perché a me piacerebbe molto sapere se questo percorso vi ha dato qualche cosa o no. Io devo dire che uno dei motivi per cui continuo a scrivere e per cui questa attività mi interessa molto è che il libro che ho fatto ormai quasi 30 anni fa, lo Zen e l'arte discopale, ci sono persone che oggi mi vengono a dire che ero un ragazzino, ero una ragazzina e quando l'ho letto mi ha migliorato la mia situazione emotiva e sessuale. Abbiamo Laura Gariboldi che è la prima iscritta, la seconda, la prima è Adelaide del mio 8, fantastico. Andiamo con le domande perché già abbiamo superato quasi raggiunto un'ora. Argomenti del corso, Giovanni Bernardi, vai a vedere sulla pagina, c'è il link qui sopra oppure se guardi qui sotto comunque c'è il link alla pagina del webinar, giusto? Comunque guarda cosa posso fare, Jack, te posso sorprendere facendo sta mossa qui che tu non ti aspetti. Allora pubblica l'indirizzo, esatto, se tu vai su questa pagina. Guarda, condivido lo schermo, però questa è la landing page, quindi avete qui appunto questo chiedevo. Ma non puoi mettere il link? Eh sì, c'è già il link, però la mostro per farla. Ok, se uno va al link, vede c'è tutta la strutturazione, la spiegazione. Bernardo ha fatto un lavoro pazzesco. Avete il nome dei moduli, i moduli sono tre, la geografia dell'amore. Va bene, va bene, dai, passiamo alle domande. Domande, io voglio parlare di sesso. Cioè intanto il terzo sondaggio è in corso? Aspetta, è troppo veloce, aspetta un attimo. Ok, dammi una domanda e tu metti il terzo sondaggio. Sondaggio messo. Poi la domanda, l'offerta per i partecipanti solo per stasera? Allora, in teoria, questa risponde io in teoria, ma se avete problemi di pagamento, non avete soldi, chiaramente siamo qui per accogliere ogni bisogno, quindi potete scrivere alle mail dell'assistenza che è questa qui, le risponderanno le ragazze e otteniamo l'offerta attiva anche per domani. Aspetta, ecco, questo è interessante. Sono iscritto al corso di Zeno Occidentale. Quali sono le differenze? Vorrei fare anche quello che proponete. Quale iniziare per prima? Beh, mio caro, sono due cose contigue. Nel corso di Zeno Occidentale mi sono occupato di raccontare tutta una serie di meccanismi della muscolatura, del cervello, degli stati di rilassamento. Ovviamente parlando di sesso, ad esempio stasera ho parlato per dieci minuti anche della respirazione, che è un tema che ovviamente in un corso sulle tecniche di benessere e di autocura. L'ho trattato in maniera molto, molto, molto più diffusa. Ecco, adesso ho detto una parola, autocura. Non vorrei che questo fosse scambiato come il fatto che io propongo di non usare la medicina scientifica perché io ho un metodo migliore. No, assolutamente. ma ci sono delle tecniche che non sono invasive. Un altro gruppo di criminali, adesso nei prossimi giorni io farò una conferenza contro questa moda delle diete. Se una persona non ha visto la tua cartella clinica, come fa alla cieca a dirti mangia questo, non mangiare questo, pratica il digiuno in questa maniera, pratica quell'altro in quell'altra maniera? Sono cose che sono veramente vergognose, come è vergognoso il pensiero positivo commerciale. Per cui io nel corso di Geno Occidentale non mi occupo di dare delle cure, ma c'è una cultura dell'autocura, nel senso della cura di se stessi, non della cura medica, che ci può far stare meglio. Ci sono tutta una serie di disturbi, ad esempio, che derivano dalle contrazioni. Devo chiarire questa roba qui, se no lascio dei malintesi, poi qualcuno va in giro a dire che sono un disgraziato. Uno dei momenti fondamentali della guarigione della mia cistite, dopo aver provato agopuntura, erboristeria, macrobiotica, omeopatia, massaggio sciazzo, queste e quell'altra, le ho provate tutte e ho provato anche antibiotici, antinfiammatori e non mi faceva nulla. Il colpo di culo è stato andare in ospedale a Verona, l'allora primario di urologia, mi fece subito le analisi, cioè fece una diagnosi reale, guardò con microscopio le mie orine, vide che c'era un'infezione e disse che questa infezione non è la vera causa, è una cosa che si è sviluppata parallelamente, ma se noi ristabiliamo l'equilibrio della vescica e della zona intorno, riusciamo a far andare via anche la cistite. Mi fermo qua, grazie a dei semplici consigli sul movimento, sul fatto di calmarsi un po', sul fatto di piccolissimi accorgimenti, lui mi diete dal punto di vista dietetico, soltanto mi chiese cosa mangiavo, io mi ammazzavo di prosciutto e parmigiano reggiano e non mangiavo quasi altro di niente, oltre che delle dosi massicce di pasticcini e lui mi disse riduci leggermente i grassi e i zuccheri, chiuso. Da lì in poi con dei semplici accorgimenti io iniziai a stare meglio, fu il primo click, per cui non parlo di rendere tutti medici di se stessi, però conoscere alcuni meccanismi è una cosa positiva ed a me è servito molto nella vita per cui ho fatto questo corso. Rossella o freddo, se lo segue una donna, questo corso può aiutare a coinvolgere anche il maschio di suo interesse, trattasi di maschio che però non vuole ascoltare. Mia cara, se il maschio non vuole ascoltare è dura, sicuramente quello che io propongo sono dei modi, degli approcci diversi alla sessualità che, anche se lui non vuole ascoltare, glieli puoi realizzare lì per lì senza dirgli niente e poi vedi che reazione ha, però non puoi chiedere a me, cioè ragazzi, sì certo, se tu fai questo corso il tuo ragazzo diventerà pazzo per te, no, però insomma c'è la conoscenza anche dei meccanismi psicologici di cui parleremo molto del maschio può essere coadjuvante. Annalisa Rosiello, iscritta, ti adoro. Abbiamo le risposte del sondaggio, del penultimo sondaggio. Allora, hai una relazione stabile? Il 54% ha risposto? Sì! Bravo! Va bene, vi fa piacere per voi, spero che sia anche soddisfacente, però il 47% dovremo parlare, forse faremo una parte particolare, aggiungeremo una parte su corteggiamento, fascinazione e come trovare la persona che ami. Subito posso dare un consiglio, chi non è in coppia, una roba che funziona in maniera da bestia, è a iscriversi a un corso di danza di salsa, perché la salsa sudamericana raccoglie gente vitale che ha voglia di scatenarsi, di muoversi, il tango è meraviglioso però è una roba che se la tirano un po' di più. Io direi danza di salsa è proprio il massimo. Iscrivetevi, ma non un corso, due, tre, quattro corsi, in modo che conoscete centinaia di persone del sesso che vi interessa e avete qualche possibilità, perché la prima cosa che non funziona è stare chiusi in casa aspettando che la persona della tua vita arrivi e sfondi la porta, entri e ti branchi. No, non succede. Bisogna attuare delle strategie per trovare. In corso l'ultimo… Ecco, infatti stavo dicendo, faccio partire l'ultimo sondaggio che è, lo dovreste, vi chiudi i risultati. Chi non lo vede può scrivere anche nei commenti, quindi diciamo la domanda. Il… aiuto, è andato tutto un botta, ecco, apri di nuovo il sondaggio, eccolo. Per te il sesso amoroso è tra le tre cose più importanti, sì o no? Nella vita. Nella vita. Ok, mandami qualche altra domanda. Allora, aspetta un attimo. Non c'è qualcuno che chiede qualcosa sull'eiaculazione precoce? No, c'è questa qui. Il corso aiuta ad aprirsi e ad abbattere le inibizioni dovute forse a bassa autostima? Io quello che posso fare… Allora, noi abbiamo anche la possibilità in questo corso, perché mi sono posto questo problema, di consigliare una psicoterapeuta, una sessuologa, in realtà abbiamo un gruppo di sessuologhe, sessuologi, psicoterapeuti che possono aiutare se c'è un problema grave. La domanda è ma quanto poco autostima hai? Perché se sei magrissima e ti sembra di avere le cosce un po' troppo grosse è un problema di basso livello, molto diffuso. Se pensi di essere una persona indegna di vivere sul pianeta è un problema di autostima molto tosto. Allora lì io non sono un terapeuta, in momenti difficili della mia vita devo ringraziare alcuni psicoterapeuti che mi hanno dato una mano, quindi anche qui non posso vendere la luna, scusatemi. Però chiaramente il fatto di avere un'arena in cui affronteremo tutta una serie di argomenti, cercando di demitizzare, cercando di semplificare, cercando di riportare l'idea del sesso, del corpo, della sessualità, dell'amore al suo livello più semplice e naturale è Alessandra Riva iscritta. Wow, grazie. Allora rispondo a questa domanda tecnica. Esatto. Come posso iscrivere un'altra persona? Scrivi pure assistenza, chiocciolacampusdelcambiamento.it e ti daranno tutte le indicazioni, ti metto alcune domande, eccola. Tratterete anche di anorgasmia maschile, eiaculazione ritardata? Sì, assolutamente, è un problema che fa parte del pacchetto, diciamo, troppo veloce eiaculare, nessuna eiaculazione, mancanza di erezione e l'altro quarto problema di cui non si parla è il fatto che non c'è l'orgasmo, c'è l'eiaculazione ma non c'è l'orgasmo, anche questo è un grande tabù della nostra cultura. Io rispondendo a una rubrica di informazioni sul sesso sulla rivista King, che era una rivista con una tiratura spaventosa, era edita dalla RAI alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, mi resi conto che questo problema di cui io avevo sofferto, cioè raggiungere l'eiaculazione, sembra che tutto vada bene, c'è un'erezione regolamentare, una durata minima garantita, poi c'è l'emissione di seme e per cui tu hai fatto la tua porca figura, solo che io non sentivo niente, ma il grosso problema che io incontrai in questo caso, che di questo argomento non se ne parlava, io ho trovato anche dei sessuologi a cui mi sono rivolto, che mi dicevano sostanzialmente che era impossibile, non capivano come potessi sostenere che emettevo un liquido ma non provavo piacere nel farlo. Secondo alcuni, tra cui il grande William Reich, questo è un problema molto più diffuso di quello che sembra, comunque sì, ci occuperemo di tutte queste cose. Giulia Troni iscritta, Alessandra Pavoni iscritta, ci troviamo molto in quello che dici, il corso è valido anche per approfondire il sesso tra donne, sicuramente dal punto di vista generale qualche indicazione potrà venire fuori. Ovviamente, scusate, ma essendo donne, una è facilitata, perché già conosce la materia, per cui sarà meno utile che nel rapporto tra un maschio e una femmina, perché chiaramente… però qualche cosa di utile spero di suggerirlo, soprattutto c'è tutta una parte sul sesso zen, ma quello vero, non quello con le contrazioni e con il blocco del muscolo pubo-gocigeo che evita addirittura l'eiaculazione, per cui mantieni l'erezione, ma non ti piace per niente, quella parte lì, appunto la parte statica, secondo me potrebbe essere interessante. Poi mi occupo sinceramente molto anche di tutto quello che sta intorno alla sessualità. Mi rimetto gli occhiali, è possibile avere già evidenziato, in evidenza, degli orari, dei collegamenti al sesso. Grazie e complimenti, grazie a te, Nadia. Te li ricordi, Tec, i webinar settimanali saranno il 5, il 12 e il 19 novembre, alle 21.15 nel gruppo Facebook riservate i corsisti, quindi se vuoi anche creare una bella community tra i studenti stessi. Allora, ci sono altre domande? Sì, aspetta che te le ritrovo. Per le iscrizioni che si fa, dovresti rimetto il link nei commenti. Eccolo, poi c'era un'altra domanda. Aspetta che te la ritrovo. Eccola. Maria Venditti, mi piacerebbe poter ragionare in merito alla figura dell'assistente sessuale per le persone con disabilità. Sarà possibile farlo all'interno del corso? Guarda mia cara, questo è un argomento molto delicato. Potremmo, se c'è interesse da parte tua, dedicare una conversazione. Questi webinar in diretta possono anche prevedere un dialogo in cui anche tu appari di persone se vuoi, oppure soltanto per telefono, perché rispondere sulle chat è difficile. È un tema molto interessante, molto particolare. tra l'altro è incredibile, ma nella pudica, negli pudici Stati Uniti d'America esiste la figura del palliativo sessuale professionista che viene utilizzata in ambito psicologico. So che in Svezia, ad esempio, c'è questa assistenza sia per i disabili che per i detenuti. È un argomento che sarebbe anche molto interessante approfondire. Se la cosa interessa possiamo anche sviluppare una parte su questo discorso, magari intervistando, trovando qualche svedese che ci racconti, qualche stantunitense che ci racconti come funziona. Cristina Meyer. Io vorrei fare un corso che vi sia realmente utile, per cui mano a mano che ci sono delle sollecitazioni, cose che io conosco poco, le andiamo a approfondire, troviamo chi è in grado di raccontarci. Per cui magari se segniamo il nome di questa ragazza, così da contattarla per, eh Bernardo, per poter fare magari poi una proposta a tutti gli iscritti di dedicare un incontro specificamente a questo tema che mi sembra enorme. Assolutamente è un territorio completamente nuovo dal punto di vista morale, dal punto di vista pratico, dal punto di vista psicologico, molto interessante. Cristina Meyer. Tratterà anche il problema delle differenze cerebrali tra uomini e donne. Sì, questo assolutamente, non solo, ma io cercherò di sviluppare il discorso che ho fatto anche stasera su quello che cerca un maschio, su quello che sono le sue paure e quello che cerca una femmina, quali sono le sue paure. In particolare io credo che il tema delle paure del maschio sia molto, molto poco riconosciuto alla sua esistenza. Il maschio non ha paura mai per definizione. Un'altra domanda. Le 20 video lezioni possono essere fatte ognuno nei propri tempi o c'è una scadenza? No, non c'è una scadenza, ovviamente non per vent'anni, ma insomma hai davanti dei mesi in cui puoi seguire queste lezioni. Sto rispondendo a Castoldi-Giudit. C'è i risultati dell'ultimo sondaggio, che dici? Sì, dai. Allora, abbiamo l'87% con 211 voti, che è? Non lo so. Sì, il stesso amore sono delle cose più importanti, sì, l'87%, 211 persone. Allora, ragazzi, se noi avessimo fatto questa domanda 40 anni fa, la risposta non sarebbe stata questa. Io mi sono reso conto di un grande cambiamento culturale che è in corso in Italia, quando ho fatto un incontro in un liceo classico sulla storia di Roma. Allora, per illustrare la psicologia dei romani, sono partito dal fatto che se tu dicevi a un guerriero romano tu sei innamorato, quello la prendeva per un'offesa. Addirittura si narra che un imperatore fece fuori uno scrittore, l'autore di Satiricum, perché l'aveva deriso sostenendo che si fosse innamorato. Perché l'amore era una cosa che andava negata. Si innamoravano le donne, i bambini e gli animali. Il maschio guerriero non doveva avere sentimenti, perché ammettere di essere innamorati voleva dire perdere il controllo. Ora, quando io ero un ragazzino ed ero al liceo, ci vergognavamo di dire ai nostri compagni di scuola che eravamo innamorati. Era una cosa da tenere segreta. Perché? Perché c'era questo retaggio che quando uno è innamorato è debole, è stupido. Allora, inizio questa mia lezione in questo liceo con un cubo di teatro. Allora, c'erano 500 ragazzi e ragazze e dico allora, signore e signore, c'è qualcuno di voi che in questo momento è innamorato? Alzi la mano. Ed ero sicuro che nessuno avrebbe alzato la mano. Cioè, ammettere davanti a tutta la scolaresca che tu sei innamorato è una cosa che ai miei tempi sarebbe impossibile. E ci sono state tre ragazze che hanno alzato la mano. Allora ho dovuto cambiare il senso della lezione e dire ragazze, voi siete il simbolo di un cambiamento. Perché per voi oggi è possibile, è pensabile di ammettere di essere innamorati, cosa che ai miei tempi non era possibile e tantomeno ai tempi di Roma, perché era una vergogna. Tommaso Lanzer, si vede malissimo, Lanzer, Lanzer, scusatemi sono mezzo cecato, verranno affrontate le problematiche legate alle paure, dubbi relativi alle dimensioni, ad esempio? Sì, posso dirti comunque che dal punto di vista meccanico, magari non ce l'hai questo problema, ma comunque è interessante sapere che i popoli trucchese e gli iapese, trucchese con la K e gli iapese con la Y iniziale, della Micronesia, che sono un popolo straordinario che negli ultimi 20 mila anni non ha mai fatto una guerra, si sono occupati solo di mangiare, ballare, cantare e fare l'amore e fare il bagno e basta. Hanno delle tecniche amatorie pazzesche, siccome loro sanno che il punto G della donna, che poi non è un punto ma è un'area, vedremo bene, ma comunque si trova a 3 centimetri e mezzo di profondità, loro fanno l'amore con il freno a mano, cioè proprio tengono col pugno il pene per lasciare fuori soltanto un pezzettino e con questa tecnica tra l'altro, adesso passiamo alla pornografia dunque, come si fa, praticamente tenendo il pene questa parte qua va proprio a sfregare contro la clitoride e ottengono quello che secondo loro è il rapporto sessuale più piacevole in assoluto per il maschio e per la femmina, tanto che dicono che non si può fare più di una volta alla settimana perché se no uno esagera poi è un casino e praticamente quindi dal punto di vista dei più grandi amatori di questo pianeta che per 20.000 anni e più hanno studiato proprio, hanno più termini relativi alle particolari pieghe e le particolari aree del sesso maschile e femminile di quanti ne abbiamo noi, termini scientifici non termini volgari, loro sostengono praticamente che se è più lungo di 3,5 cm non c'è problema, funziona, se è meno lungo di 3,5 cm si tratta che tu trovi una persona che non gli piace la penetrazione e che invece gli piacciono altre maniere di godere perché comunque tu puoi godere in maniera straordinaria comunque è bellissima. Va bene, ho risolto anche questo problema, Stefania Di Paolo, non so se avete già affrontato il tema, parlerete di tantrismo? Sì, assolutamente sì, ma ci sono due tipi di tantrismo, il tantrismo che prevede che il maschio non abbia l'eiaculazione grazie a queste contrazioni del muscolo pubo-coccisioneo di cui ho parlato all'inizio di questa concione, secondo me è un disastro ed è una tecnica che è nata quando i re e gli imperatori e i principi sono andati dai maestri di tantra che parlavano dell'estasi sessuale e amorosa e gli hanno detto a me non è frega niente dell'estasi sessuale, voglio riuscire a fare sesso con 10 concubine per notte, quindi hanno inventato una tecnica che permette, sì è vero di fare sesso con 10 concubine per notte, ma non è più un'estasi del corpo e della mente, è un esercizio fisico e nel momento in cui dovresti avere il massimo di abbandono, il massimo di piacere, sei lì a fare... insomma non è il massimo del divertimento, comunque ne parlerò a lungo di questo argomento. Silvia Carimi, gli psicologi e o gli psicoanalisti che intervengono nel gruppo a che livello lo fanno, a livello individuale o di gruppo? No, 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 la proposta è proprio per chi vuole di consigliare una persona che possa fare una serie di incontri di psicoterapia e vedere poi se è il caso di continuare un percorso o no. Altra domanda? Eh, buona, aspetta, non ne vedo altro, vedo gli iscritti, grazie tantissimo. Stefania Cesari, praticamente gente, ci sono soltanto e unicamente donne iscritte a questo corso, ragazzi, se si sparge la voce arriveranno milioni di iscritti maschi. Vabbè, stiamo scadendo, sono stanco, sto iniziando a delirare. Ultime domande, Cesare Costa, si toccherà anche il discorso, si toccherà qui già andiamo anche il discorso dei massaggi tantrici per rilassare prima del rapporto Ioni e Lingam? Beh, io parlo dei massaggi, ci sono tecniche di massaggio, però, che quelle a me piacciono di più, è il massaggio basato sul piacere di toccare, per cui non sono uno specialista di particolari tecniche, ma credo che il massaggio, se le tue mani seguono il piacere del contatto e tu cerchi di toccare quella parte di quella persona cercando il massimo di sensazione piacevole, ottieni anche il massimo di sensazione piacevole per la persona massaggiata. Invece io, come forse state intuendo, ho diffidenza di quelli che fanno un sistema classificato, cioè bisogna massaggiare il pene così, 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 bisogna massaggiare, questo è il sistemino, studio te lo memorio, segui 1, 2, 3, 4, 5. Magari queste tecniche possono essere utili anche per persone che hanno dei problemi, io proporrò, proprio nel video che dobbiamo girare in questi giorni, proporrò tutta una serie di accorgimenti tecnici, ma non come un metodo da seguire, ma come darti un ventaglio maggiore di possibilità. Ecco, in questo senso, io credo che la cosa fondamentale è che poi le persone scoprano il loro modo di baciare, di massaggiare, di accarezzare, di amare e, attenzione, è unico perché tu sei una persona unica ed è unico perché nessuna persona è uguale alla persona con la quale tu stai facendo l'amore. Quindi, quando io cerco di darti il pacchettino con le istruzioni, ti sto fregando, ti sto fregando perché ti dico, io so tutto quello che bisogna fare, adesso ti insegno e non avrai problemi, invece quello che posso dirti è, guarda, io ho fatto questo tipo di esperienza, ho fatto questo tipo di osservazione, ti possono servire per inventarti delle esperienze su misura per te che te le devi fare da solo, te le devi inventare da te. Io spero di incrementare la fantasia, la voglia di sperimentare, non dare dei sistemi chiusi. Matteo Frighi, non ho capito, c'è un gruppo dedicato ai partecipanti? Sì, un gruppo su Facebook che permetterà a voi di scambiare pareri e discussioni, ovviamente nel momento in cui si apre la discussione anche io sarò interessato a intervenire. Altre domande? Guarda, Jack, io non vedo altro. Benissimo, allora, signori e signori, il 22 e 39 è stato per me molto interessante, spero che lo sia stato anche per voi, vi ringrazio comunque, la partecipazione a questa serata mi ha gasato e con chi vorrà continuare questo discorso lo continueranno assieme. E comunque sappiate che io continuerò a fare una serie di conferenze in rete, lunedì prossimo faremo ad esempio una discussione, un incontro, un'intervista, si dice salotto adesso, farò un salotto con degli psicoterapeuti di grandissimo valore e anche lì voglio iniziare un percorso che non c'entra nulla col sesso ma c'entra con la scoperta di alcuni meccanismi psicologici che nel momento in cui anche questi io ho notato, mi hanno fatto notare anzi l'esistenza, hanno avuto gran beneficio così come ho intenzione di occuparmi di tutta una serie di altri temi ad esempio relativi a la storia del mondo che per me è un argomento meraviglioso, per cui se ci sono appassionati di storia sarà divertente parlarne assieme. Non sono corsi a pagamento, sono libere conferenze su Facebook. Buona serata a tutti, grazie, grazie Bernardo per la tua tecnica organizzativa e complimenti a tutto il gruppo del Campus del Cambiamento perché sta nascendo una università con la quale la libera università di Alcatraz sta collaborando con grande effetto se andate su www.alkatraz.it vedete che in questo periodo del Covid stiamo trasformando una serie di corsi e di materiali in percorsi di approfondimento e il nostro sogno è insieme a altri amici di creare proprio un'università con varie facoltà il Campus del Cambiamento sarà una facoltà, la libera università di Alcatraz è un'altra e poi speriamo che se ne aggiungano altre perché io credo che andiamo verso un'epoca in cui questo mezzo straordinario che abbiamo scoperto in un momento drammatico come il coronavirus possa diventare uno strumento di formazione e di crescita per tutti per cui grazie e buonanotte, grazie Bernardo metterei il video finale delle testimonianze ah sì c'è questo video che è il video conclusivo delle interviste che ha fatto Bernardo alla fine del corso di Zen Occidentale abbiamo fatto questo seminario ovviamente se mai sarà possibile, speriamo che il Covid finisca sarà molto divertente potersi incontrare in un bel agriturismo e fare un corso di persone non facciamo sesso diretto ma chiaramente sono tutta una serie di attività propedeutiche all'arte, all'amore, alla convivialità che è difficile fare via web conference quindi dai mettiamo il video e poi auguriamo una buonanotte va bene buonanotte, ciao si fa un po' innamorare di quello che racconta a tutti questi aneddoti, queste storie così molto coinvolgenti il corso online è molto interessante, molto divertente ciao io sono Angela chiamo Marco io faccio l'avvocato io sono un'impiegata faccio la wellness coach sono alla ricerca di qualcosa di interessante per una crescita personale e quindi per curiosità ho detto proviamo a seguire questi corsi ho deciso di fare il corso online perché ho capito che Jacopo poteva donare delle cose molto pratiche per migliorare la vita soprattutto nate in tanti anni di gruppi e di cose fatte anche adesso come il modo in cui affronto alcuni temi sia nel mio lavoro sia a livello personale è molto più tranquillo, molto più naturale, molto meno strutturato il suo modo di comunicare è stupendo, mi arriva veramente alla grande lo consiglierei a chi veramente mi chiede qualche cosa voglio fare qualcosa quindi non lo seminerai così sprecandolo magari anche buonanotte a tutti buonanotte, grazie, complimenti a Bernardo per questo video ci faccio un figurone grazie, ciao buonanotte ciao ciao